Lo scontro salvezza della ventottesima giornata al Tiberio Orsini di Giulianova se lo aggiudica con il punteggio di 1-0 la Re Canatese a cui basta un gol dell'ex Tarantopera nel primo tempo. Montani, dopo il pareggio di Pesaro, recupera gli squalificati Bagallini e Mozzoni e schiera i suoi con il consueto 4-3-3 con Massetti sulla sinistra e in attacco il tridente formato da Tiboni, Giampaolo e Liguori. La Re Canatese, dopo la roboante e convincente vittoria sul Castelfidardo e con una squadra totalmente stravolta dopo il girone di andata, si schiera con il 4-4-2 con la coppia d'attacco Pera e Falomi e proprio Pera al settimo minuto fallisce il gol del vantaggio. Lunardini su punizione chiama lo schema con Olivieri che pennella una palla d'oro per Pera che di testa mette sul fondo. Il San Nicolo cerca di fare possesso palla ma al quindicesimo ci prova ancora la Re Canatese ma il colpo di testa di Nodari è debole e facile presa di Cannella. Al diciassettesimo arriva la risposta del San Nicolo. Sfondamento centrale di Cala che serve un pallone d'oro a Tiboni ma il gigante è buono solo davanti a Piangiarelli non aggancia con il risultato che resta invariato. Al ventiquattresimo si fa vedere ancora la squadra di Montani ma il tiro di Cala dei 30 metri non inquadra lo specchio della porta. Pochi secondi e sul capovolgimento di fronte arriva il vantaggio a ospite con Pera che raccoglie un falo laterale, stop orientato e di destro trafigge sul palo lungo l'estremo di casa. Inizio di ripresa subito con Moretti in campo per la squadra di Montani al posto di Tiboni e inizio più propositivo per la squadra di casa. Al terzo ci prova Liguori ma il suo tiro si perde sul fondo. Al quarto d'ora ancora il San Nicolo che con Massetti sfonda sulla sinistra con un'azione personale ma il suo cross in mezzo è preda di Piangiarelli. 30 secondi e stavolta il neo entrato Moretti che raccoglie una sponda di Giampaolo ma da centro aria non inquadra. Il San Nicolo spinge e Giampaolo ci prova con un tiro dalla distanza. L'intervento di Piangiarelli non è perfetto ma per sua fortuna e della Re Canatese la palla sorvola la traversa e si spegne in calcio d'angolo. Da qui alla fine della gara nient'altro. Solo alcuni cambi per entrambe e un'azione di contropiede della Re Canatese che si ora in due circostanze. Il raddoppio con Perra e Lunardini. Su quest'ultimo ottimo l'intervento di Cannella. Dopo quattro minuti di recupero finisce la gara con il San Nicolo che avrebbe meritato sicuramente un pareggio per quanto visto nel secondo tempo. Re Canatese che di contro con la vittoria si allontana dalla zona calda della classifica. Mister forse l'azione del primo tempo se si sviluppava in maniera diversa con un tu per tu col portiere c'era il gol dell'1-1. Forse si parlava di un'altra partita, di un altro risultato. Sì, sì, ma il pallone con i mai con i sei tu sai che non è che vai lontano. Dispiace perché è una partita che assolutamente non meritevamo di perdere perché la squadra è stata in campo e in partita per tutti i 95 minuti. Ha sfiorato più volte il pareggio, poteva mandare anche in vantaggio. Abbiamo incontrato sicuramente una squadra forte però bisogna accettare serenamente il verdetto del campo perché purtroppo non puoi fare diversamento. La partita l'avete vista tutti e credo che l'abbiamo fatta più noi che loro. Però il campo ha detto questo risultato e lo accettiamo malvolentieri, ma lo accettiamo. Per quanto riguarda il proseguo del campionato, sapevamo, sappiamo che c'era da soffrire fino alla fine. Non ci sposta agli equilibri e andiamo avanti. Ripeto, perché non è detto che dobbiamo affrontare i play-out ad oggi perché mancano ancora sei partite e sono 18 punti. Quindi sono molto fiducioso perché vedo la squadra che adesso abbiamo parlato un attimo degli spogliatoi e c'è grandissima amarezza perché tutti quanti come avete visto non meritavamo. Però ripeto, adesso facciamo sbollentire questa partita e aspettiamo di affrontare il giovedì il Monticelli. Ma noi in questo momento ci accontentiamo di ottenere questa salvezza che è ancora difficile. Le prossime gare saranno quelle a decidere, però oggi era uno scontro diretto, importantissimo. La squadra è partita molto bene a prima mezz'ora, poi una volta in vantaggio magari sentiva troppo o ha sentito troppo l'importanza della gara e ha cercato di amministrare. Però nella consapevolezza che questa era una partita da dentro fuori, perciò ci avrebbe rimesso in condizioni critiche e siamo stati bravi a portarla in porto.